se vi fa piacere. Stiamo avviando la registrazione, l'avvio della registrazione online su YouTube, la diretta su YouTube e poi partiamo. Perfetto, allora buonasera a tutti e bentrovati a questo terzo appuntamento del ciclo di incontri promosso dall'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, che io qui rappresento, dal coordinamento Veneto dei gruppi di azione locale, con il patrocino dell'ASVIS, l'Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con la collaborazione della CIS del Veneto, di Confcommercio Veneto e del Forum Veneto del Terzo Settore. Questo terzo appuntamento tocca, come dire, forse uno dei temi più attesi, insomma, che è quello del rapporto tra urbano e rurale, nel ruolo dei territori, il rapporto tra urbano e rurale, il rapporto tra città e campagna, il rapporto, insomma, tra le aree magari che si pensa più e maggiormente centrali rispetto alle aree marginali. Un tema molto importante, particolarmente significativo per il nostro territorio Veneto, che è ricco di aree rurali, di aree montane. Un tema che affrontiamo con l'aiuto di Giovanni Carrosio. Giovanni Carrosio è docente di astrologia dell'ambiente presso l'Università di Trieste, è componente del Forum Diversità e Disuguaglianza, ha lavorato come consumente per alcuni anni nella preparazione della astrologia nazionale delle aree interne. di recente, l'anno scorso, ha pubblicato questo bel libro, I margini al centro, se avete occasione, l'Italia delle aree interne tra facilità e innovazione, ed è anche però tra gli autori di un altro importante testo che riguarda sempre questo tema, che è Riabitare l'Italia, le aree interne tra abbandono e riconquiste, edito da Donzelli nel 2018. Ecco, a lui abbiamo chiesto un po' di inquadrare questo tema così importante del rapporto urbano-nurale all'interno della possibilità della sostenibilità, con la consapevolezza che la sostenibilità è una cornice, non è che la società ci porta una ricetta univoca per tutti, ma è semplicemente una cornice che va poi fa declinata nei contesti territoriali, a seconda della dimensione culturale, sociale e economica di quei territori. E quindi, come dire, richiede un approccio sempre ampio, multidisciplinare, sempre flessibile e aperto, e di evidenziarlo a luce di quelli che possono essere i nodi, i nodi problematici, nodi che riguardano, per esempio, nelle nostre aree lo spopolamento, questo è un grande fattore problematico, nodi che riguardano, per esempio, la correlazione tra aree marginali e la strategia delle aree marginali all'interno e gli stessi gruppi di azione locale, questioni che in qualche modo però aprono anche a grandi opportunità e tra queste non c'è dubbio che l'opportunità, una grande opportunità, è offerta anche da questa famosa Next Generation EU, da queste risorse che vengono dall'Europa per fronteggiare la crisi economica e sociale causata dalla pandemia che tutti stiamo vivendo e soffrendo in questo tempo e così anche con l'indicazione, con gli incontri precedenti, di raccogliere anche stimoli al fine di poter poi elaborare alcune proposte come ASFES e come GAL da riportare all'interno dei tavoli istituzionali a livello regionale ma anche locale, ma anche per favorire un dibattito pubblico, un maggiore coinvolgimento dei cittadini. Non ci dimentichiamo la volta scorsa con Luigi Di Maio abbiamo parlato più direttamente e più attentamente di questi strumenti che l'Onone ha messo a disposizione del Next Generation EU e in questo strumento una delle indicazioni che viene dalla Commissione Europea è la centralità che deve avere la consultazione delle istituzioni ai vari livelli, così come la consultazione delle organizzazioni non governative di strada civile. E sappiamo che siamo in una fase in cui il PRRR, così come il PNRR, cioè questi piani nazionali e regionali di ripartenza e resilienza sono in fase di definizione. Ecco, l'urgenza non deve in nessun modo però far venire meno questo momento di consultazione, questo momento di confronto, questo momento di raccolta di indicazioni e proposte che vengono dai territori perché i territori hanno, come dire, una grande quantità di contenuti, di conoscenze che devono essere assolutamente riportate in questi contesti. Non solo per la fare della programmazione ma anche per l'implementazione poi di questi strumenti. Ecco, credo che a partire dall'incontro di oggi, dall'incontro presente di quello di oggi, credo che con oggi riusciremo anche ad avere ulteriori spunti e riflessioni su come andare a definire alcune indicazioni che poi vorremmo elaborare successivamente insieme ai GAL rispetto alle prospettive che il piano regionale di residenza e ripartenza ci porterà a ragionare. Quindi ringrazio tutti voi per essere qui con noi, ma do la parola a Giovanni Carrosio su un intervento che, come le altre volte, si studia intorno ai 35-40 minuti. A seguire avremo alcuni degli interventi programmati dei nostri partner e poi le domande in chat che avremo cura di rivolgere al redattore per le sue disposte. A te la parola Giovanni e grazie per seguir con noi oggi. Bene, grazie Matteo, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per l'invito e per l'opportunità di discutere con tante persone qualificate come voi. Vedo che tra le persone collegate ci sono anche delle vecchie conoscenze che saluto così in modo collettivo. Vorrei focalizzare il mio intervento sulla sostenibilità e sulle relazioni tra i territori, provando a fornire una cornice di senso dentro la quale rendere operativo il concetto di sostenibilità. Credo che il discorso sulla sostenibilità, che oggi anche grazie all'attività di ASVIS sta diventando un discorso di senso comune, e sta iniziando ad orientare strategie di sviluppo, strategie di impresa attraverso gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, gli SDGs. Credo che questo discorso però corra continuamente il rischio di essere catturato da visioni e da interessi che pensano e costruiscono politiche per la sostenibilità in modo cieco rispetto alla diversità dei luoghi nei quali gli interventi per la sostenibilità vengono calati. Cioè c'è il rischio, a mio avviso, di concepire la sostenibilità in modo deterritorializzato, ovvero di pensare alla sostenibilità e alle soluzioni per la sostenibilità, sempre come soluzioni one fits all, cioè soluzioni per cui una va bene per tutti, va bene per tutti i ceti, va bene per tutti i territori, che sono soluzioni che faticano, non sono capaci di riconoscere le differenze dei termini territoriali. E se noi pensiamo alle politiche che oggi intervengono sulla sostenibilità, le politiche che vediamo già da diversi anni promosse dall'Europa e applicate dagli Stati attraverso delle direttive, sono politiche soprattutto per la transizione ad un'economia a bassa emissione di carbonio, molto incentrate sulla transizione energetica, che guardano poco alle ecologie dei territori, cioè guardano poco alle interconnessioni ecologiche e funzionali che aree urbane e territori rurali hanno, oppure che guardano poco al perché non ce l'hanno più queste interconnessioni e guardano poco a come potrebbero averle in futuro invece nuove forme di connessione urbano-rurale dentro una cornice di sostenibilità. Quello che voglio dire è che il paradigma della modernizzazione ecologica, che è l'approccio dominante che dà forma alle politiche europee sulla sostenibilità, è caratterizzato soprattutto dall'idea che per velocizzare la transizione sia necessario investire in modo massiccio nell'innovazione tecnologica, nelle tecnologie pulite, intervenendo sui grandi acclomerati urbani, soprattutto sui grandi agglomerati urbani, che rappresentano per dimensione e per loro tipologia quei mercati facilmente standardizzabili e capaci di produrre quelle economie di scala sufficienti perché le nuove tecnologie diventino economicamente competitive. Questo modello qua però, il modello della modernizzazione ecologica, dal punto di vista delle disparità territoriali o della coesione territoriale, a me sembra non avere discontinuità rispetto ai modelli di sviluppo del passato. Ha solo la peculiarità di volersi emancipare dalla dipendenza dal carbonio. E infatti se guardiamo a come si stanno diffondendo per esempio l'energia rinnovabile nel nostro paese, a me pare che si stiano riproducendo spesso, non sempre ma spesso, quelle dinamiche di marginalizzazione delle aree rurali che abbiamo già visto nel secolo scorso. Ovvero le aree rurali si ripropongono nuovamente in una relazione di dipendenza dalle città, questa volta come territori a servizio della transizione energetica di quelle aree dove si addensano di più i consumi. E quando dico questo penso ad alcune operazioni molto concrete che ho visto in questi anni e per restare sul territorio veneto mi vengono in mente l'impianto fotovoltaico a terra di San Bellino in provincia di Rovigo o la disinvoltura di tante centrali a biomasse che in anni di incentivi troppo generosi per la produzione di energia elettrica sono proliferate molto spesso senza radicamento nelle filiere locali del legno. O se guardiamo al sud alla modalità di diffusione dell'eolico, questi grandi campi olici in comuni molto piccoli di poche centinaia di abitanti che non hanno contrattato nemmeno nulla con il territorio in termini almeno di compensazione di queste grandi installazioni. Oppure molta operazione sul microidroelettrico che negli ultimi anni si stanno diffondendo molto. Casi dove spesso sono investitori esterni che straggono valore sui territori senza coinvolgimento e beneficio delle comunità locali. Evidentemente non c'è soltanto questo, c'è anche un attivismo delle comunità locali che a volte riescono a dominare questi processi, che riescono a pensare in termini di comunità lo sviluppo delle energie rinnovabili. Però mi sento di dire che la traiettoria dominante che abbiamo visto in questi anni è stata quella di riprodurre le diseguaglianze territoriali, ovvero di guardare alla modernizzazione ecologica, alla transizione energetica in modo cieco rispetto ai territori, rispetto ai luoghi dove queste cose si calano. Forse però questo modo di pensare, di concretizzare le politiche per la sostenibilità è stato messo in crisi durante i mesi di pandemia. Forse. Nel senso che i grandi agglomerati, l'eccessiva densità, la concentrazione, si sono rilevati problematici nella gestione della pandemia e se ci ricordiamo la dinamica di diffusione del Covid nelle sue fasi iniziali ha avuto proprio una differenza importante tra territori ad alta concentrazione e territori più rarefatti. In questi mesi perciò abbiamo assistito ad una rivalutazione dei territori più rarefatti, della dimensione dell'abitare in contesti confortevoli dal punto di vista ambientale per esempio, alta improvvisa accelerazione della digitalizzazione del lavoro che consente obiettivamente una maggiore mobilità residenziale dei lavoratori. Bisognerà vedere però se questa domanda emergente di territori rarefatti sarà anche accompagnata da politiche capaci di ridisegnare la relazione tra territori, ovvero politiche capaci di incidere sulla sostenibilità, sulla transizione ecologica, come strumenti per creare coesione territoriale. La transizione alla sostenibilità può essere uno strumento per creare più coesione territoriale, per combattere le diseguaglianze territoriali. Se guardiamo appunto la sostenibilità dentro la cornice della coesione territoriale. E allora se pensiamo retrospettivamente che cosa è successo nel nostro paese, perlomeno dagli anni 60 del secolo scorso ad oggi, vediamo che il tema della crisi ambientale e delle disparità territoriali sono molto intrecciati tra di loro e probabilmente riannodando alcuni fili e lavorando alla ricucitura di alcune fratture possiamo ricostruire forme di abitare, di produrre, di consumare sostenibili in ogni luogo. Quindi piegare territorialmente la sostenibilità. Prova a spiegarmi. Che cos'è la crisi ambientale nel nostro paese? Che cos'è la insostenibilità? Semplificando molto, sintetizzando al massimo, l'insostenibilità è il frutto di due dinamiche, che cito brevemente solo per argomentare quello che voglio dirvi dopo, che sono due dinamiche che io chiamo accelerazione e artificializzazione. Sento un... mi sentite bene? Ok. Allora, accelerazione e artificializzazione. L'accelerazione che cos'è? L'accelerazione è lo sfasamento tra i tempi con i quali il nostro sistema economico trasforma la natura in merci e i tempi di funzionamento degli ecosistemi. Cambiamento climatico è banalmente frutto di questa accelerazione. La CO2, l'anidride carbonica accumulata in atmosfera, le oltre 400 parti per milione di anidride carbonica che registriamo a partire dal 2019, sono lì perché ne emettiamo troppa in troppo poco tempo e gli ecosistemi non riescono a riassorbirla. L'artificializzazione invece è il principio attraverso cui il sistema industriale è progredito nel tempo tentando di razionalizzare l'ambiente e anche di sostituirlo grazie ai prodotti di sintesi. Razionalizzare l'ambiente significa infatti non solo dominare l'ambiente, controllarlo, conoscerle le regole, ma significa sostituire capitale naturale con capitale artificiale, ovvero significa disconnettere il ciclo di produzione delle merci dai cicli ecologici. E allora queste due dinamiche insieme, accelerazione e artificializzazione, hanno provocato la rottura di un rapporto di ecoevoluzione tra uomo ambiente che si è riprodotto per secoli, hanno provocato l'abbandono di ampie porzioni di territorio, territorio che non viene più gestito, che si degrada dal punto di vista della ricchezza degli ecosistemi. E questo è un punto molto importante che va detto anche a molto ambientalismo urbano, scusate questa polemica, che spesso si pensa che un territorio che viene abbandonato sia un territorio che automaticamente diventa ricco di natura e invece noi sappiamo che in un paese come il nostro, fortemente antropizzato nel tempo, il territorio, l'ambiente che noi vediamo è un ambiente antropico, dove se l'uomo si ritira si perdono degli equilibri e questo territorio si degrada, non diventa nuova ricchezza ambientale, ma si perde ricchezza ambientale, si perde anche biodiversità dove si ritira l'uomo. E questo è successo perché? È successo perché il sistema industriale lineare ha reso non più competitive queste economie circolari tradizionali che in qualche modo avevano bisogno di incorporare l'ambiente nei propri cicli. Economie come quella del bosco, dell'industria meccanica mossa dalla forza dell'acqua, della produzione di energia, dell'edilizia fatta con materie prime locali e naturali, dell'allevamento estensivo, tutte forme di economia che hanno sempre utilizzato le risorse naturali, che gestivano l'ambiente manutenendolo e che nel tempo sono diventate residuali. E allora questa accelerazione e questa artificializzazione sono due facce della stessa medaglia, dove la prima, l'accelerazione, porta alla formazione di territori troppo pieni, dove si concentrano sviluppo e si addensano i beds, i mali ambientali di origine antropica. Adesso per tagliare le cose con l'accetta penso alla città diffusa, quasi senza soluzione di continuità, che unisce Treviso, Mestre, Padova, Vicenza, Verona e che risale anche per qualche vallata. E dall'altra parte invece si sono prodotti territori troppo vuoti, dove prende forma la marginalità territoriale, si addensano i mali ambientali che sono conseguenti dell'abbandono, oppure a volte anche dell'annientamento dell'ambiente, dell'abbandono penso a determinate aree della provincia di Belluno, della montagna, all'annientamento penso a territori come il Delta del Po, dove ormai c'è un deserto cerealicolo, dove di ambiente se ne vede molto poco, c'è un'agricoltura molto intensiva, molto artificializzata. E allora in questa dinamica i nostri sistemi urbani sono diventati dei troppo pieni globali, sempre più capaci di rispondere ai bisogni dei propri cittadini attraverso l'attivazione di catene del valore globali, catene che organizzano l'approvvigionamento di risorse su scala planetaria, ma scollegano le aree urbane dei territori limitrofi. Dall'altra parte le aree marginali sono diventate troppo vuote di persone e troppo piene di ambiente, non c'è mai un troppo pieno di ambiente, però voglio dire troppo piene di un ambiente che non viene più manutenuto, che non entra più nel ciclo di produzione, che è disconnesso dall'attività dell'uomo, ambiente che è stato abbandonato. E quindi questo processo di rapporto stretto, di coevoluzione tra uomo ambiente, che garantiva la riproduzione sostenibile degli ecosistemi, non sempre sostenibile, ma spesso sostenibile, si è arrestato e le risorse ambientali locali sono state in gran parte estromesse dalla produzione di valore, estromesse dai cicli economici, dalla produzione di merci. Allora, detto questo, se nella modernizzazione ecologica la dinamica rimane questa, di accentramento, di marginalizzazione, di disconnessione, perché tutto il processo di conversione ecologica prende forma senza intervenire sulle relazioni territoriali, sul rapporto tra persone ed ecosistemi nei quali vivono, sul recupero del rapporto di coevoluzione tra sistemi economici e ambiente, è evidente che dal mio punto di vista non ci sono chance perché le politiche per la sostenibilità diventino funzionali ad una riduzione delle disparità territoriali, diventino funzionali a un nuovo sviluppo rurale che porti benessere sui territori, nuova impresa, che porti un nuovo abitare su alcuni territori. E invece, se guardiamo la sostenibilità con il filtro della coesione territoriale, pensiamo a modi di costruire la sostenibilità attraverso una ricostruzione delle connessioni ecologiche tra aree rurali e urbane. Vuol dire riportare i territori marginalizzati dentro il modello di sviluppo dei sistemi urbani, dove l'interdipendenza diviene un elemento necessario per le sostenibilità dei territori, che hanno caratteristiche diverse e possono costruire equilibri uomo-ambiente in modi diversi, però reciprocamente funzionali. Quindi, dal mio punto di vista, le politiche per la sostenibilità che ragionano di ecologie territoriali sono politiche che riportano i territori troppo vuoti nel modello di sviluppo dei territori troppo pieni, nel senso che ricreano delle connessioni sull'utilizzo delle risorse tra dove ci stanno i mercati e dove ci stanno determinati tipi di risorse. E quindi abbiamo bisogno di economie che reintroducano l'ambiente nel loro ciclo di produzione. Evidentemente non per sfruttarlo o per depauperarlo, ma secondo dei criteri di sostenibilità. Economie che abbiano bisogno di prendersi cura dell'ambiente e quindi di manutenerlo per rigenerarlo. Ne abbiamo bisogno per pensare a un modello di sviluppo più sostenibile, che ha già una domanda di mercato. Questa domanda di mercato la vediamo in tanti cittadini, in tanti cittadini che esprimono anche in momenti di crisi una domanda di qualità della vita, di reconnessione con la natura, di salubrità, di ecosostenibilità dei prodotti. Una domanda crescente di mercato che però secondo me non è una domanda soddisfatta quanto lo potrebbe, perché nelle istituzioni e nel mondo delle imprese ci sono diversi tipi di resistenza, anche a volte di capacità prospettica, che non consentono di creare quelle cornici istituzionali dentro le quali si può dare gambe a nuove economie che riconnettano i vuoti con i pieni. E' il contesto istituzionale centrale nel consentire che una innovazione si faccia largo dentro il mercato. Tutti i nostri mercati sono regolati. Quando vi dico questo penso a un caso che immagino conosciate tutti, che è il caso di Edilana in Sardegna, di questa imprenditrice sarda che a un certo punto intuisce che si potrebbe utilizzare la lana della pecora per fare pannelli di coibentazione per l'edilizia, connettendo edilizia e pastorizia, superando un problema di smaltimento di un rifiuto speciale come la lana di pecora. Però nel momento in cui inizia la sua attività imprenditoriale su questo si rende conto che la lana è un rifiuto speciale e che se tu la trasformi in qualcos'altro fai un reato perseguibile. E così è innescato una battaglia molto lunga per far sì che a un certo punto il legislatore si decida a togliere dei paletti per consentire a questa innovazione di avere gambe. Oppure penso a come tutti gli incentivi per l'efficientamento energetico per gli edifici potrebbero essere modulati, non saprei come, però diciamo un'idea generale, poi qualcuno magari riesce anche a tradurlo nella pratica senza creare distruzioni, tutti questi incentivi potrebbero essere modulati per premiare l'utilizzo di materiali locali. Quale volano non è stato il sistema del 65% che non distinguendo provenienza o tipologia di materiale da utilizzare ha finito per premiare i prodotti sintetici derivati dal pretorio, prodotti da grandi industrie globali, penso all'asciuco tedesca e ad altre. E allora, tenuto conto di questa lezione, quale volano invece potrebbe essere il 110%, sarà drizzato con una postura territoriale. E pensiamo su questo ruolo che il public procurement potrebbe avere nel creare connessioni sul cibo, sull'energia, sull'acqua, sull'armodernamento degli arredi, visto che nei prossimi mesi e anni andranno ripensati gli spazi nei quali si lavora. Appunto, tenendo conto delle filiere, da dove arrivano determinati materiali, come faccio a costruire offerta di mercato e domanda di mercato, dentro un disegno di riconnessione tra territori. Anche qui, secondo me, la crisi Covid apre qualche spazio prospettico, che evidentemente è uno spazio di possibilità che va riempito di intenzionalità politica, perché sono mesi che sentiamo dire che il Covid cambierà tutto. Il Covid apre uno spazio, poi bisogna vedere noi come agiamo dentro questo spazio per far sì che il dopo Covid sia in un modo e non sia nell'altro. Però sicuramente uno spazio lo apre. Se pensate che in particolare nei mesi di marzo e di aprile abbiamo sentito tante mia colpa sullo smantellamento delle filiere nazionali di alcuni prodotti essenziali per affrontare la pandemia, le mascherine. Una delle potenze industriali più importanti del mondo come la nostra non riusciva a immettere sul mercato le mascherine. Allora, tenuto conto di questa lezione, domani, se ragioniamo in termini di resilienza, potremmo vedere che cose analoghe succederanno per via del cambiamento climatico sulle filiere del cibo in caso di eventi climatici estremi. E allora non è possibile e auspicabile certamente che l'Italia diventi autarchica nella produzione alimentare, però costruire, pensare a dei margini di autonomia nei mercati globali per affrontare momenti di crisi è buon senso e banalmente questo significa provare a riconnettere territori urbani e territori rurali sulle filiere del cibo, su pezzettini di filiere del cibo. E quindi fare questo orientando in questa direzione le politiche per la sostenibilità significa pensare a un nuovo modello di sviluppo che non riproduca le disuguaglianze territoriali ma che faccia coesione territoriale. Sono fronti sui quali secondo me si riapre la relazione città-aree rurali in una logica però non più di subalternità perché questa volta di fronte all'avanzare della crisi ambientale le risorse li hanno i territori rurali, non li hanno i centri, non li hanno le città. E allora quali politiche per fare questo, per questa riconnessione? Beh, intanto io credo che c'è il Recovery Fund, l'avete detto, Next Generation. Sapete che c'è un dibattito di questi giorni su questo Recovery Fund, probabilmente un dibattito poco sui contenuti ma molto sulle forme, che a me un po' preoccupa perché tante parole d'ordine anche nella critica a come è impostato oggi il Recovery Fund non le sento. Sento molte grandi opere, molta città ma sento poco una tensione forte sui temi ambientali, ecco a 360 gradi, nonostante l'Europa ci chieda di spendere tante di quelle risorse sui temi ambientali. E io credo che sul Recovery Fund bisogna innanzitutto assicurarsi che le risorse per l'ambiente e quelle per la coesione territoriale si parlino, prima di tutto, e prevedano appunto interventi di riconnessione tra territori. Cioè bisogna che i progetti che incidono sulla quota di spesa ambientale non siano tutti dentro il solco della modernizzazione ecologica, ma assumano una postura territoriale, guardino alle connessioni ecologiche tra territori, non guardino soltanto alla decarbonizzazione in assoluto, in modo cieco rispetto ai luoghi, senza che ci sia un riconoscimento delle diversità territoriali. Questo è un primo punto. Un secondo punto, su queste relazioni anche che generano domanda di mercato tra territori rurali e aree urbane, io credo che dovremmo pensare ad una nuova generazione di patti tra territori. Noi abbiamo avuto delle stagioni, beh ci sono stati patti territoriali nel nostro paese che erano un'altra cosa però. Io penso a dei patti di territorio tra aree che lavorino sulla domanda di mercato pubblica, perché questa domanda di mercato pubblica generi quella stabilità nel tempo e quella massa critica sulla quale nove imprese possono tentare di localizzarsi nei vuoti con delle strategie di imprese innovative e basate sull'utilizzo rigenerativo delle risorse ambientali. Penso appunto alla domanda, a tutta la domanda del pubblico, su tutte le filiere che ci possono venire in mente, a partire sicuramente dalla domanda di cibo, ma anche appunto alla domanda di come faccio l'efficientamento energetico, con quali materiali, come utilizzo la spesa pubblica per orientare stabilità di intrapresa in territori dove si fa fatica, si fa più fatica che in altri territori. E di questi patti potrebbero farsi promotori le amministrazioni pubbliche, ma anche i gruppi d'azione locale. Possono essere incentrati sulla domanda pubblica, ma anche sulla relazione tra consumatori privati e imprese private. Poi certamente ci sono le politiche di sviluppo rurale. C'è la programmazione dei GAL, c'è la programmazione dei fondi strutturali, c'è la nuova, probabilmente ci sarà la nuova programmazione della strategia interna, che se non ci sono incidenti di percorso di questi giorni dovrebbe continuare individuando una o due nuove aree per regione. E qui secondo me siamo in una fase propizia, perché queste nuove programmazioni potrebbero iniziare insieme, cosa che non è successo per quanto riguarda strategie interne e fondi strutturali e GAL nello scorso settennato, e potrebbero iniziare insieme in un momento come quello di programmazione anche del recovery fund. E attraverso queste tre programmazioni si può spingere di più sulle interconnessioni. Per esempio sarebbe bello iniziare a sperimentare azioni concrete sul tema dei servizi ecosistemici, sul pagamento dei servizi ecosistemici, per capire se potrebbe essere una strada per riconnettere anche attraverso una nuova fiscalità ambientale territori che hanno risorse, territori che hanno bisogno di utilizzare risorse ambientali. E poi dentro questo c'è tutto il tema della residenzialità, per riprendere anche quanto accennato prima sulle conseguenze del covid rispetto alle nostre preferenze abitative. Perché? Perché dietro al tema della sostenibilità dei territori evidentemente c'è anche il tema della sostenibilità demografica dei vuoti e dei pieni, che è strettamente legata col tema della sostenibilità dei servizi sui territori. E anche qui credo che il covid apra delle prospettive. Perché? Perché ha lanciato un allarme su che cosa significa costruire offerta di servizi solo pensando ad economia di scala e solo pensando alla concentrazione dei servizi in grandi strutture. E tant'è vero che è dibattito di questi mesi tutto il tema della medicina di territorio, tutta la critica al modello lombardo, eccetera, eccetera. E allora, bene, se mettiamo finalmente in discussione il tema della concentrazione dei servizi, delle economie di scala come solo criterio per decidere se tengo un punto nascita aperto o no chiuso, una scuola aperta o no chiusa, allora rimettiamo in discussione tutto quel sistema che ha fatto sì che negli ultimi 20-30 anni almeno il 60% del territorio nazionale è rimasto tagliato fuori da servizi importanti come i pronti soccorso, come le scuole superiori, come i punti nascita, eccetera, eccetera. E allora dai punti nascita alle scuole bisogna ripensare il modo con il quale organizziamo in servizio alle persone. Questa secondo me è stata una delle intuizioni, e poi sono mancate diverse gambe, ma magari ne parleremo nel dibattito, che ha avuto la strategia interna, già in tempi non sospetti, l'idea di lavorare congiuntamente sull'adeguamento dei servizi in territorio a bassa identitizità abitativa con il tema dello sviluppo. Idea che però ha trovato molti scogni nel suo percorso, nel senso che chi di competenza o Stato o Regioni spesso non hanno mai osato veramente rimettere in discussione il modo con il quale sono stati pensati i servizi. Tant'è vero che ci è capitato di lavorare in molti territori provando a riprogrammare i servizi nel mentre venivano chiusi dei servizi. E lavorare con questa contraddizione sul territorio, capite che spesso si è bersagliati da tutte le parti, giustamente. E il discorso sui servizi io credo che sia molto importante, quanto quello sulle filiere economiche, perché le trasformazioni nel mercato del lavoro dei prossimi anni secondo me porteranno a una mobilità residenziale. Io non credo a un riabitare in maniera forte di determinati territori, non credo a questo esodo dalle città verso le campagne che spesso anche giornalisticamente raccontano i giornali. credo sì al nascere di forme di abitare più fluide, con un numero rilevante di famiglie che probabilmente grazie al telelavoro starà un po' in città e un po' in una seconda casa o in un altro territorio in maniera temporanea. E questo evidentemente porrà ulteriori sfide al ripensamento dei servizi, no? Perché oggi abbiamo pensato ai servizi sulla residenzialità, su una quota di persone che stanno su un territorio e invece già in questi mesi in diverse zone, le cose più eclatanti che io ho sentito raccontare in prima persona sono sulla montagna sopra Torino, ci sono molte persone che stanno vivendo a seconda delle regole del lockdown un po' da una parte un po' dall'altra e questo se è una situazione che si stabilizza evidentemente richiede di pensare a dei servizi in forma molto flessibile non solo più tarati su popolazioni stabili ma su popolazioni che possono andare e venire o almeno una quota di popolazione che può andare e venire. è importante evidentemente che questa nuova residenzialità, se ci sarà, sia una nuova residenzialità una parte della quale non sia solo persone che attaccate ad un terminale interagiscono con una città perché lavorano, anche se è importante quel tipo di residenzialità lì perché crea movimento sul territorio, però è bene cercare di costruire nuova residenzialità appunto su nuovi lavori che potrebbero ancorarsi sull'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali. io mi fermerei qua Matteo. Benissimo, benissimo, grazie Giovanni per i molti spunti, i molti spunti che ci hai offerto con questo tuo intervento e adesso io, come dire, come le altre volte partirei con queste domande programmate, invito ovviamente altri a fare domande in chat e darei la parola soprattutto per primo come sempre, anche con noi ha pensato questi appuntamenti, in questo caso darei la parola a Matteo Aguanno, direttore del GAL Prealpi Dolomiti che aveva pensato a una domanda per te. Prego Matteo. Buongiorno a tutti, grazie al professor Carrosio. Io mi ricollegherei alle aree interne. Noi sappiamo, lei da tempo studia e analizza queste politiche, questa strategia che il governo, come lei ricordava, ha tutta l'intenzione di sostenere ulteriormente e anzi di irrungostire, passando da una fase, diciamo così, sperimentale ad una fase più strutturata nell'ambito delle politiche di sviluppo territoriale. In quest'ultimo anno, direi, ma forse anche due anni, si sono intensificate le azioni e le riflessioni su quelle che potrebbero essere delle sinergie, inizialmente trascurate, più che non pensate, tra la dimensione della SNAI, della strategia aree interne, e quella delle politiche di sviluppo locale attuate per il tramite dei GAL, con la modalità e con l'approccio cosiddetto leader. Attività di integrazione tra politiche che, quanto mai, secondo me, oggi si rende assolutamente indispensabile per rendere entrambe le politiche più efficienti, per rendere entrambe le politiche più in grado di creare impatto, un impatto positivo, e soprattutto per dare un contributo all'insegna, diciamo, della situazione particolare in cui ci ritroviamo, soprattutto per quanto riguarda, diciamo così, l'aspetto programmatorio. Nel precedente incontro, qualcuno, non ricordo se il dottor Pelloso forse, aveva citato a, come dire, una sorta di ingorgo programmatorio, no? Dove si sovrappongono policy, politiche, programmazioni, spesso su stessi territori, addirittura creando, diciamo così, delle inefficienze, piuttosto invece che dei miglioramenti. In questo senso, sicuramente, le attività in corso, anche grazie a un dialogo con la regione, che devo dire è molto, molto positivo, e ringrazio da questo punto di vista le autorità che seguono i fondi principali che insistono in territori rurali, e cioè i fondi del FEAS, dello gruppo rurale e della coesione del FEAS. Sicuramente le due politiche hanno degli elementi di, diciamo così, differenza piuttosto importante, pensiamo soltanto alla, diciamo così, direzione, bottom-up nel caso del leader, più top-down nel caso della strategia nazionale aria interna, come pure anche i protagonisti, questo forte protagonismo dell'associazionismo comunale, degli enti pubblici, dei piccoli enti pubblici associati nel caso della strategia aria interna, e dall'altra invece dei partenariati, dove all'interno magari ci sono anche questi enti, ma dei partenariati pubblico-privati rappresentati dai GAR. Bene, ciò detto, mi interessava un po' conoscere il suo punto di vista in merito a quali potrebbero essere, diciamo così, gli elementi sui quali porre l'attenzione all'insegna di questa oramai assolutamente necessaria integrazione tra le due politiche. E soprattutto, insieme a questo, se lo sforzo, diciamo così, di razionalizzazione, diciamo così, di integrazione, di ambiziosa collaborazione sistemica tra le due politiche, non potesse essere anche esercitato all'insegna di creare dei rapporti più forti verso la città, verso, diciamo così, le aree urbane. Quindi, sostanzialmente, cercare di sfruttare un momento in cui, a livello rurale, si cerca di, diciamo così, fare della coesione tra politiche, politiche di coesione, e in questo momento cercare anche, con una certa ambizione, me ne rendo conto, perché è tutt'altro che facile, trovare anche degli elementi di dialogo con la città e con l'urbano, ricordando che le politiche facenti riferimento alla nuova programmazione, in particolar modo all'obiettivo 5, le politiche di coesione, e prevedono delle azioni, delle policy per le aree, diciamo così, rurali, verosimilmente la strategia nazionale all'interno, e per le aree urbane. Quindi ci sono anche degli strumenti che potrebbero in qualche modo poi essere utilizzati per favorire, facilitare delle idee di connessione tra queste aree coese nelle politiche e non più, diciamo così, cicche tra politiche di sviluppo rurale e le aree urbane. Grazie. Se vuoi rispondere Giovanni. Ah, rispondo subito, sì. Allora, io credo che la strategia aree interne abbia diversi problemi che nella nuova fase vadano assolutamente presi in considerazione per provare a riprogrammarla, a ripensarla, credo dal mio punto di vista senza stravolgerla, ma individuando i principali colli di bottiglia che hanno reso tutto il processo spesso farraginoso e che hanno fatto sì che alcuni territori hanno fatto tutto un lavoro di programmazione della strategia e hanno aspettato che questa strategia si traducesse in spesa vera troppo tempo. In un momento, tra l'altro, come questo, che abbiamo visto, come da un anno all'altro il mondo può veramente cambiare e tutto quello che hai pensato prima rischia di diventare obsoleto. E questi problemi sono problemi di governance, in parte, che derivano dalla sua ambizione, non tanto l'ambizione prospettica, di prospettiva, che è una grande ambizione quella di interrompere lo spopolamento delle aree interne, sicuramente, però derivano dall'ambizione con la quale è stata pensata, l'idea di fare dialogare territori, regioni, Stato, sicuramente un elemento che dal mio punto di vista ha preservato, che però richiede degli snellimenti in alcune situazioni, perché è una cosa molto complicata. Fare convergere fondi europei in una logica multifondo insieme a dei fondi statali è una cosa che, in termini di concretezza della spesa, diventa una cosa complicata. Una sottovalutazione, sicuramente, da parte della strategia della difficoltà di progettazione dei territori, ma non tanto dei territori, quanto degli amministratori locali, quando nel momento in cui si è pensato di mettere tutta la partita nella mano di questi sistemi intercomunali permanenti, purtroppo non si è pensato in maniera contestuale un'azione forte e significativa di rafforzamento amministrativo, che è importante sia nella fase di programmazione che è nella fase poi di spesa, perché abbiamo visto che molti territori hanno faticato proprio a fare progettazione, ancora prima di tradurre la progettazione in schede progetto cantierabili e le schede progetto cantierabili poi in spesa vera e propria. E quindi questa difficoltà evidentemente si riverbera anche sui tempi, sulla capacità di spesa e sui tempi di spesa. Un altro elemento che sicuramente non ha aiutato, venendo anche alla questione dei GAL, è lo sfasamento programmatorio, tempistico, tra strategie aria interna e fondi strutturali e strategie dei GAL. Io adesso non ricordo bene in Veneto come sia andata la cosa, ricordo benissimo altre regioni che ho seguito direttamente, nelle quali la strategia aria interna si trovava a programmare il suo pacchetto di risorse quando i GAL erano già stati approvati dalle regioni con le proprie strategie. E quindi lì instaurare un dialogo nel merito della programmazione diventa molto complicato. Non nascondo, ce lo siamo già detti anche con Matteo in altra serie, è che all'inizio c'è stato anche un atteggiamento abbastanza guardingo reciprocamente. La strategia aria interna ha guardato i GAL in maniera un po' da lontano, i GAL probabilmente hanno detto ma che ci fa questa politica su territori dove ci stiamo già noi. Non nascondiamoci che è successo questo, ci sono state delle incomprensioni, in alcune regioni sono comprensioni che naturalmente si sono superate, in alcune altre regioni sono incomprensioni che vanno ancora avanti oggi, perché sicuramente c'è anche una differenza molto forte a livello regionale di come si muovono i GAL, di quante risorse hanno a disposizione i GAL, che è una cosa importante, ci sono GAL in giro per l'Italia che hanno risorse sterminate e quelle della strategia sparivano in confronto a altre situazioni più equilibrate. Però io credo che per il futuro tutto quello che elimina i colli di bottiglia preservando il disegno strategico della strategia, quindi l'orientamento sui servizi alla popolazione, il tenere insieme i servizi a sviluppo, mantenere un ruolo importante dei sindaci nella programmazione, la partecipazione che va fatta in maniera ancora più spinta dal mio punto di vista dei cittadini, non solo delle organizzazioni di categorie, eccetera, eccetera, dentro questa cornice metodologica tutto quello che aiuta a incrementare le capacità tecniche dei territori e a migliorare la programmazione, ma soprattutto la spesa, benvenga. E quindi credo che un ruolo, una relazione strategica, qui c'è l'occasione di farla dall'inizio, mi sento di dire, in questa nuova fase, no? Tra i gruppi l'azione locale e la SNAE sicuramente va in questa direzione, anche perché, appunto, dentro i due fondi, diciamo, il tema dei servizi e quello dello sviluppo locale, probabilmente mantenendo il disegno strategico insieme, però può darsi, ma questo è un miazzardo, è che la parte sindaci può essere la parte che lavora di più sul tema dei servizi, perché ha tutta una sé, e invece la parte galla è quella che cerca di lavorare di più sul tema sviluppo. Quindi io sicuramente auspico, questo sicuramente aiuterebbe anche nella relazione con l'esterno, con le città, perché evidentemente un'azione congiunta di una politica europea più una politica nazionale che insieme, diciamo, si pongono nei confronti delle città per costruire dei patti su delle filiere, su delle iniziative, sicuramente è molto più forte che una situazione conflittuale o non risolta tra gala e aree interne, che crea più debolezza sul territorio e quindi anche più debolezza percepita dall'esterno. Grazie, grazie alla risposta. Chiederei adesso a Eugenio Gattolin, direttore generale di Confcommercio, se vuole anche lui fare una breve riflessione, un po' più breve magari quella di Matteo e una domanda. Grazie. Ok, intanto grazie, molto interessante, anche stimolante un po' l'intervento del dottor Carrosio. Non solo velocemente due battute. Da una parte, noi stavamo immaginare un sviluppo territoriale ricordando, ha comunque un tema, un problema importante, che è quello demografico. Cioè, senza una lettura vera demografica, nel nostro sistema, nel nostro paese, ma anche nel nostro Veneto, difficilmente possiamo veramente programmare lo sviluppo. E questo ci dice già abbastanza cose una lettura di questo tipo, prima di fare altre scelte. Dall'altro, il policentrismo in questa pandemia, per certi aspetti, ha avuto quasi uno spazio maggiore, quello che è stato sempre un limite, diciamo, di questa città diffusa nel territorio, via via, non avere dei grandi agglomerati, noi non abbiamo città metropolitane, sono finte quelle che ne diciamo, e abbiamo piccole, medie, grandi città, tanti paesi, perché questa diffusione, in fin dei conti, dovrebbe rifavorire, se vengono riorganizzati un po' i servizi, la logica anche di vita un po' di comunità, e forse anche di relazione più specifica, nel potenziare uno sviluppo nei diversi luoghi, diverso da un modello industriale co-centrico, nel senso, non abbiamo più bisogno, forse, nelle nuove imprese, nello sviluppo anche di una economia più terziaria, forse, di spazi ulteriori, grandi, da gestire, e forse anche una diversa mobilità, cioè l'innovazione potrebbe aiutarci a ricompattare, diciamo, un'organizzazione delle città e delle aree interne in maniera diversa, in maniera anche più valoriale. Ultima battuta, il problema è che questo confligge con una serie di, questa necessità, questa opportunità di rivedere, con molti piani di lettura che si fanno adesso, che sono fatti, piani che ridefiniscono gli obiettivi, le priorità, cioè si rischia di avere un po' di confusione rispetto a una governance che impedisce a volte di valutare il raggiungimento degli obiettivi, le attività svolte, il monitoraggio e l'impatto che questi possono avere, per cui il rischio è di poter avere anche un ingolfamento, diciamo, di grandi obiettivi, di risorse che difficilmente riescono ad essere ottimizzate. Ecco, il problema rosso della governance, della governance dello sviluppo locale, su cui dovrebbe fare una riflessione, visto l'importanza adesso delle risorse che dovrebbero essere messe a disposizione e che rischiano di accontentare un po' tanti, un po' tutti, in un modello un po' disordinato di gestione. Giovanni? Sì, no, sono assolutamente d'accordo e c'è il tema, i temi della governance dello sviluppo locale, secondo me ci sono tante questioni a partire dalle ultime riforme amministrative che secondo me hanno creato molti problemi, hanno creato molti problemi perché appunto tutta questa enfasi sull'abolizione delle comunità montane, la costruzione di queste città metropolitane che appunto in Veneto avete solo Venezia, mi pare come città metropolitana, che di fatto anche qui sono state interessanti alcune esperienze di aree e progetto della strategia aria interna dentro le aree metropolitane a proposito di relazioni urbano-rurale, dove ingenuamente io per primo ho pensato che nella città metropolitana di Genova, in quella di Torino, in quella di Firenze, dove avevamo dentro delle aree come l'Antola, Tiguglia e Liguria, le Valle di Lanzo nella città metropolitana di Torino, il Mugello nella città metropolitana di Firenze e altre che adesso non ricordo, in quel caso lì la città metropolitana poteva diventare un contesto che facesse rafforzamento amministrativo ai comuni dell'area progetto e dell'area interna, ma soprattutto che insieme si poteva pensare ad una programmazione che guardasse alle interconnessioni. Invece lavorando con quelle poche persone che nella città metropolitana si sono dichiarate disponibili, ho capito che la città metropolitana ha una testa politica che è tutta sul capoluogo di città metropolitana e che non guarda nemmeno al suo Interland e quindi è molto difficile che quel costrutto amministrativo lì diventi qualcosa di buono in termini di interconnessione urbano-rurale. Sicuramente in territori invece più policentrici, dove c'è una città più diffusa come è il Veneto, in questo momento manca anche un po' la dimensione di quei confini di enti di secondo livello diciamo amministrativi che consentano di fare questa operazione sul piano istituzionale. Grazie Giovanni, inviterei adesso Gianfranco Refosco che è il segretario della Cisvento alla sua riflessione e domanda. Sì, grazie, molto velocemente perché i stimoli sono stati molti. Penso che uno degli effetti della pandemia e cioè la rottura a un certo punto delle catene globali di produzione di valore che ha riguardato soprattutto il manifatturiero ma anche un pezzo di manifatturiero agroalimentare per esempio e quindi ha rimesso in discussione il funzionamento di intere filiere lo stiamo vedendo anche adesso in alcuni casi anche in Veneto in realtà ci permetta di fare delle riflessioni diciamo così più coraggiose di quelle che abbiamo fatto in passato sulle connessioni delle filiere e quindi da questo punto di vista un ragionamento e un approfondimento sulla questione territoriale sul rapporto fra le aree urbane e le aree rurali possa essere oggi molto più fruttuoso di quanto fosse stato in passato. Questo è uno stimolo interessante anche perché la caratteristica le caratteristiche del Veneto quali sono il consumo di suolo che dove siamo abbiamo il record italiano praticamente in proporzione al territorio l'inquinamento abbiamo visto la settimana scorsa che Vicenza è stata dichiarata quarta città più inquinata d'Europa dal punto di vista delle polveri sottili questa metropoli diffusa che però ha le caratteristiche di appunto di essere diffusa ma di non avere quella densità urbana che permette per esempio di fare le economie di scala per esempio sulla mobilità eccetera quindi abbiamo gli aspetti negativi la rottura dei collegamenti delle aree rurali ma non quelli positivi che sono le economie di scala nelle reti per esempio ecco da questo punto di vista mi sembrava molto molto stimolante la riflessione di Carrosio sull'opportunità io direi anche la necessità di una nuova stagione di patti fra i territori ma anche dentro ai territori a patto che abbiamo il coraggio di veramente cambiare paradigma in questo momento qua e cito tre esempi dopo dopo di che mi fermo primo qui c'è da pensare a delle nuove modalità dei nuovi patti proprio sull'approvvigionamento e sul consumo e quindi da questo punto di vista il collegamento urbano-rurale anche nel nostro territorio ma se vediamo su scala per esempio macro-regionale diventa molto molto importante e molto stimolante per quello che riguarda anche un investimento sulle aree rurali secondo aspetto che è legato ai temi delle mobilità della mobilità e quindi l'abitare e il lavorare io non sono un fanatico dello smart working anche perché abbiamo visto che può essere un'agevolazione in alcuni casi ma se diventa una modalità standard di lavoro crea un fortissimo isolamento e anche grandissimi disagi nelle persone che lo praticano però è certo che cambia il rapporto fra dove abitiamo perché chi non aveva gli spazi adeguati o adatti se ne è accorto e come nei mesi scorsi e dove lavoriamo che diventano più luoghi di incontro e di socializzazione che non di svolgimento vero e proprio del lavoro e il terzo aspetto e qua mi fermo che è secondo me la variabile delle variabili sulle quali serve veramente ragionare di nuovi patti innovativi che è tutto il tema della transizione demografica che ci porterà nei prossimi anni a un rischio di recessione demografica o di stagnazione demografica anche per il territorio veneto con tutto quello che comporta sia in termini di spopolamento o di tenuta degli ambienti rurali ma anche in termini di equilibrio o di squilibri nuovi nel mercato del lavoro ecco tutti questi temi avrebbero bisogno proprio di paradigmi nuovi e di essere ripensati anche con strumenti e modalità diverse rispetto al passato perché gli strumenti non sono adeguati a queste nuove sfide grazie cosa dire che io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Gianfranco credo che sia interessante questa io sto lavorando in questi mesi insieme al comune di Carpi per la crisi del distretto tessile abbigliamento per me è un argomento totalmente nuovo perché non mi sono mai occupato di distretti o di economia manufatturiere però lì è impressionante come i mesi di covid abbiano spazzato via un sistema economico strutturato nei secoli perché il distretto di Carpi ha completamente delocalizzato delocalizzato importanti pezzi delle filiere e improvvisamente dall'est asiatico non arrivava più un pezzo e non sono riusciti a produrre le collezioni di abbigliamento per l'anno prossimo ma allo stesso tempo con tutti i negozi chiusi non riuscivano a vendere quelle prodotte l'anno scorso e lì gli industriali finalmente hanno iniziato a parlare di ricontrollo sulle filiere però io non sono molto ottimista su questo nel senso che credo che lo spazio di possibilità sia aperto perché credo che lo spazio di possibilità per continuare a fare ragionamenti su questo e anche travasarli sul tema della crisi ambientale che è quella che ci fa andare ci interessa di più diciamo sul tema della resilienza dei nostri sistemi nel futuro intanto perché questa interconnessione tra pandemia e crisi ambientale è una connessione che fanno fa qualche studioso qualche persona un po' più raffinata però mi sembra che nel mondo mainstream non sia una connessione riconosciuta e tantomeno come abbiamo sottovalutato gli allarmi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità negli anni scorsi sulla possibilità di pandemie stiamo totalmente sottovalutando gli allarmi sui temi del cambiamento climatici della scarissità di risorse e quindi credo che questo spazio di possibilità che è ancora aperto o si agisce subito in maniera molto forte con delle discontinuità forti in questo momento oppure quando torneremo ad una situazione di nuova normalità lo spazio si chiuda di nuovo perché ritorneremo a fare tutto come abbiamo fatto prima io questo rischio lo vedo molto molto forte transizione demografica transizione demografica anche qua purtroppo se ne parla molto poco c'è solo Alesina che sui giornali parla di rapporto tra demografia ed economia però è veramente una bomba la questione demografica nel nostro paese ogni tanto mi dico ma cavolo ragioni di ripopolamento delle aree interne ma qua si stanno spopolando le nostre città dove la prendiamo la gente per ripopolare l'area interna è vero che ci sono i flussi migratori ma i flussi migratori durante la pandemia non sono nemmeno più i flussi migratori di prima al di là di tutto il discorso politico che possiamo fare sui flussi migratori e quindi sì ci sono da ripensare molte cose cioè la realtà ci pone di fronte delle questioni molto radicali e credo però che non abbiamo la forza politica intesi come collettività di affrontarli con il pensiero lungo e la radicalità che la realtà ci pone grazie e recupererei alcune delle domande che sono state presentate in chat la prima tocca un aspetto che in qualche modo vi ho detto in risposta a Matteo Aguando dice enfatizzare il ruolo dei sindaci non rischia di far naufragare a volte la strategia nel momento in cui le elezioni determinano un cambio amministrativo ecco questa è una caratteristica molto italiana perché quando arriva una nuova amministrazione si butta a male tutto quello che c'era prima e si ricomincia da capo questa è una prima questione poi c'è un po' considerazione sulle opportunità che possono venire dal PSR ma l'altra domanda che mi pare interessante che ti vorrei riportare è questa come possiamo creare nuove economie nei luoghi abbandonati o comunque creare nuove sinergie senza sfruttare le risorse ambientali e cadere in una mercificazione del tutto se non cambiamo questo sistema economico per la sua crescita infinita economica e schiacciata su un'economia del debito siamo pronti ad affrontare questi ultimi due tabù quindi crescita economica e debito e poi l'ultima se vuoi te la do anche questa è si può riprendere si puoi riprendere il discorso abbandono rinaturalizzazione e perita di biodiversità allora la prima e l'ultima sono un po' più facili quella di mezzo non mi sento all'altezza di dare una risposta un po' compiuta a quella domanda però vediamo cosa riesco a dire allora partiamo dalla prima sì chi è che ha fatto la prima domanda Giulia De Mario sì enfatizzare il ruolo dei sindaci può rischiare di far una uffragare delle strategie io ho anche un caso molto concreto che è quello della Valle Maira dove un gruppo di sindaci molto giovani molto bravi molto giovani lo sottolineo perché sono stati dei sindaci che si sono affacciati per la prima volta l'azione amministrativa su quel territorio hanno vinto in diversi comuni e hanno rappresentato un ricambio generazionale importante perché diciamo che da una classe politica ultra settantenne è arrivata una classe politica tra i 40 e i 50 anni sindaci che hanno seguito molto lo spirito della strategia interna hanno fatto delle scelte molto forti sul territorio nel passaggio dalla programmazione alla chiusura della PQ e quindi alla possibilità di concretizzare quelle azioni il territorio è andato alle elezioni e questi sindaci non sono stati confermati e i nuovi sindaci che sono la nuova classe cioè sono i sindaci che c'erano prima quindi tutte persone che ormai hanno più di 75 anni hanno voluto ricontrattare molti di quei progetti a me questa cosa mi ha fatto anche molto male diciamo indipendentemente dalle dinamiche del territorio può darsi che i nuovi sindaci la vedano più lunga degli altri però mi sono anche detto cavolo una classe politica di persone così avanzate nell'età che mandano all'area delle scelte strategiche invece di sindaci che sul territorio hanno molta più chance di esserci nei prossimi 30-40 anni che coraggio che però evidentemente hanno avuto il mandato politico quindi quel rischio lì c'è ed è anche un rischio molto forte non credo che però la soluzione sia dire allora i sindaci sono fuori dalla programmazione strategica di un territorio e consegniamo tutto nel mano di un soggetto esclusivamente tecnico bisogna trovare una strada di mezzo probabilmente ovvero un soggetto tecnico che possa dare continuità e però una visione strategica che sia formulata da persone che sono lì attraverso una prassi di democrazia rappresentativa un modo è anche quello di accelerare perché se noi fossimo riusciti a far spendere questo territorio prima che cambiassero colore politico non tanto politico lì è colore più familiare diciamo perché sono comuni di 120 250 abitanti evidentemente il tema della velocità della spesa della strategia interna è un tema che non si può più sottovalutare scusa Matteo mi ricordi l'ultima il tema della abbandono e rinaturalizzazione beh lì vi faccio un esempio concreto abbandono del territorio che provoca depauperamento dell'ambiente mi viene in mente Matteo l'ha già sentito credo però questo esempio dell'oltrepopavese l'oltrepopavese è un territorio sul quale l'università di Pavia ha censito 77 varietà di farfalle che sono più di tutte le varietà di farfalle che c'è in Inghilterra ed è un territorio nel quale arrivano turisti dal nord Europa dove hanno poco ambiente ma molta cultura naturalistica ambientale che si chiamano butterfly watchers persone che camminano per vedere le farfalle ma c'è un flusso consistente di turisti di questo tipo che vanno lì per vedere queste farfalle per fotografarle e però su quel territorio ogni volta che viene fatta una rilevazione si capisce che queste farfalle sono a rischio di di perdita di varietà cioè che nei prossimi anni ci sarà meno varietà e questo mette anche in crisi un piccolo specchietto del settore turistico che però su un territorio come quello è importante perché si perde questa varietà di farfalle perché quelle farfalle si sono diversificate così tanto su quel territorio perché nei secoli ha pascolato in quel territorio un tipo di vacca che si chiama vacca varzese che pascola in determinati pendii a un baricentro molto basso e consente di mantenere dei prati proprio funzionali alla proliferazione di queste farfalle il fatto che l'allevamento della vacca varzese non sia più competitivo perché è una vacca che ha poca resa insomma tutta una serie di problemi dell'allevamento di montagna che ha fatto sì che ci sia molto meno allevamento su quel territorio che molti di quei prati siano diventati prati invasi dalla boscaglia dai rovi e che quindi si stia perdendo biodiversità e quindi un rapporto possibilmente equilibrato e sostenibile tra uomo ambiente invece in queste aree consente di mantenere e di riprodurre una biodiversità che si è creata proprio per questa continua sfida nella presenza uomo ambiente sul territorio ci sono molti altri casi tritoni nell'appennino ligure ce ne sono tantissimi e allora invece la domanda più complicata non ho una risposta come possiamo creare economie nei luoghi abbandonati che siano sostenibili senza sfruttare le risorse ambientali eccetera eccetera allora è una risposta parziale io non credo appunto ho detto margini di recupero di figliere locale nel senso che io non credo in un futuro o diminuiamo drasticamente come popolazione o non credo e o diminuiamo drasticamente in termini di consumi o non credo che sia possibile un futuro nel quale le nostre città consumeranno solo risorse ambientali utilizzate in modo sostenibile che provengono dalle nostre aree più vuote dalle nostre aree rurali continueranno ad esserci dei processi di globalizzazione continueranno ad esserci un utilizzo di risorse ambientali esterno ai nostri paesi perché l'Occidente non ha più capacità di produrre cibo materie prime per i suoi consumi dovrebbe ridurli in maniera veramente drastica però credo che un po' più di quello che si fa ora si possa fare cioè iniziare a costruire dei pezzi di filiere su prodotti di qualità incrementarli lentamente fino ad arrivare a una situazione in cui si mantiene l'equilibrio sia una cosa che strategicamente si può fare evidentemente certo che c'è un problema cos'è che dice la domanda di crescita infinita e di economia del debito sicuramente ci sono tutti e due i problemi è vero che il tema della crescita è uno dei temi il pensiero pensate negli anni 70 la fondazione Agnelli in Italia aveva portato il rapporto sui limiti dello sviluppo dove la fondazione Agnelli pagata dagli industriali Agnelli teorizzava lo stato stazionario dell'economia oggi questo discorso qui è un discorso che è fuori dal mainstream anche della sostenibilità però evidentemente il problema c'è il problema c'è ma credo che sia difficile risolverlo provare ad affrontarlo con intenzionalità in questa fase in questa fase possiamo iniziare ad intravedere degli aggiustamenti grazie Giovanni poi c'è una domanda considerazione sul ruolo degli enti degli orti non gli enti degli orti sociali come si inseriscono in queste dinamiche a Palo dice abbiamo 600 orti le connessioni con il territorio e la città devono essere basate su un nuovo paradigma che hai detto anche tu coltivare la città per salvaguardare la campagna non so se hai una riflessione un pensiero su questa questione del rapporto e il contributo che gli orti sociali e gli orti urbani possono offrire in questo percorso allora questa cosa nel nostro paese fino ad oggi è sembrata una cosa un po' naif in realtà se noi andiamo già per esempio negli Stati Uniti in determinate zone come New Orleans dove sono anni che subiscono dei fenomeni atmosferici molto molto violenti un po' come è stato via da noi però subito nelle grandi città lì c'è tutto un ragionamento su lo stoccaggio di acqua e di cibo anche attraverso per esempio gli orti urbani quindi come costruire resilienza territoriale facendo entrare la campagna nelle città facendola rientrare oppure valorizzandola dentro progetti di comunità credo che possa essere uno non l'elemento risolutivo ma possa essere uno dei tanti tassellini che appunto in questa logica di interconnessione di recupero dell'ecologia dei territori se si mettono insieme possono incrementare la nostra capacità di costruire economie sostenibili poi c'è ancora una domanda che riguarda se hai qualche informazione sui metodi di monetizzazione dei servizi ecosistemici sarebbe molto utile se sono buone pratiche in questa direzione e allora no cioè no ormai abbiamo molta conoscenza ci sono diversi centri di competenza anche importanti nel nostro paese Università del Molise Università di Pisa ma anche Udine con Marangon che forse conoscete qualcuno di voi conosce su la misurazione dei servizi il riconoscimento dei servizi ecosistemici la misurazione le ipotesi di un valore economico dei servizi ecosistemici secondo me è un tema molto delicato perché il tema della monetizzazione dei servizi ecosistemici a seconda di come gestito può diventare anche cose problematiche non abbiamo ancora esperienze concrete sui PES quelli che vengono chiamati PES nel nostro paese cioè abbiamo qualche esperienza molto sporadica però non abbiamo esperienze convincenti su come strutturare il pagamento dei servizi ecosistemici sarebbe bello iniziare a provare a immaginarseli e a fare una sperimentazione prima o poi da qualche parte ad esempio c'è un gruppo di Bologna che si chiama Eco Indeco Francesco Silvestre e Anna Natali che hanno fatto un bel lavoro di ipotesi di pagamento dei servizi ecosistemici nell'Appennino Reggiano però sono delle ipotesi che non sono mai state tradotte in tentativi di azione sperimentale per capire se funzionano oppure no Ecco grazie a Pado abbiamo il gruppo di Davide Pettinella all'Agripolis che studia scusate i servizi ecosistemici insomma ho dimenticato Pettinella ma evidentemente avevo in testa anche Pettinella assolutamente e tra l'altro qui sarebbe interessante perché il problema è che si spinge molto sui servizi ecosistemici si spinge troppo poco sugli stock cioè sul valorizzare e capire qual è il valore degli stock insieme i stock insieme i boschi invece si va a ragionare molto sui servizi ecosistemici proprio nell'ottica dello scambio insomma quindi quel rischio di cui parlava adesso Giovanni è forte insomma di monetizzare un servizio naturale con il rischio che poi questo diventi fattore di mercato e un'altra domanda Giovanni è di Roberto Zanandrea che chiede considerazioni riguardo allo spopolamento non pensate che prima emorragia sia quella di non avere una crescente immigrazione un po' come i temi del risparmio energetico la prima risorsa è l'efficienza quindi come evitare che i nostri territori i giovani vadano via e questo tra l'altro invento è uno dei grandi problemi che abbiamo sui giovani preparati noi come ASUS più volte abbiamo richiamato su questa questione l'attenzione della regione e non solo la regione ma anche della nostra opinione pubblica sì certamente secondo me ci sono tante questioni secondo me vanno tenute tutte insieme come un territorio può diventare attrattivo come un territorio può non far scappare i giovani però mi sento di dire anche che i giovani da un territorio hanno il diritto ad andarsene per imparare cose nuove poi per avere le opportunità per ritornare se lo vogliono quindi ci sono un po' tutte queste cose qua una cosa secondo me sulla quale è importante lavorare molto è quella dei servizi alle famiglie nel momento in cui iniziano ad avere dei figli io penso che quello sia un momento veramente cruciale e ho conferma in tante storie che ho raccolto per aree interne in Italia di famiglie che al primo figlio pur avendo un lavoro sul territorio sono andate a vivere a valle perché lì c'era la nido perché lì c'era la scuola col tempo pieno e hanno iniziato i genitori a fare i pendolari da valle a monte per andare a lavorare una cosa di questo tipo detta nel novecento forse non era pensabile ma detta nel nostro nuovo secolo probabilmente la residenzialità oggi con la precarizzazione del mercato del lavoro eccetera eccetera è molto più legata alla dimensione dell'abitare e quindi ai servizi che ho su un territorio piuttosto che all'occupazione perché l'occupazione può variare per diverse categorie di popolari soprattutto tra i 25 e i 35 anni che è la fase di non stabilizzazione del mercato del lavoro lì le persone possono vivere in posti cioè possono lavorare in diversi posti in questi dieci anni però magari se hanno un posto dove crescere dei figli di constabilità scelgono quel posto lì quindi io investirei molto su quella fascia che è la fascia più difficile nella quale investire perché in un posto dove non nascono bambini da tanto tempo oppure dove ci sono pochi numeri significa fare un azzardo quasi imprenditoriale no? Bene ci avviamo verso le conclusioni io chiederei a Alberto Petterle che in questo momento è anche il presidente del coordinamento del Gal del Veneto se vuole così farci alcune riflessioni rispetto anche a questo incontro di oggi ed eventualmente se lui stesso ha una domanda nei confronti del nostro relatore prego Alberto grazie grazie Matteo buonasera a tutti da parte mia e da parte di tutti i Gal Veneti beh ormai siamo arrivati alla fine di questo ciclo di incontri e ovviamente mi corre obbligo ringraziare tutti quelli che hanno dato una mano per la realizzazione di questi eventi in particolare volevo prima di tutto ringraziare Asves che insieme con noi ha curato e ha contribuito alla realizzazione al presidente Santini Giorgio e ovviamente anche a Matteo Mascia che ha coordinato sapientemente questi tre incontri ringrazio ovviamente la regione Veneto che è per il tramite dei propri rappresentanti ha contribuito a fornire spunti utili alla discussione e da ultimo ringrazio tutti i direttori dei Gal che sono collegati anche adesso e che hanno lavorato assieme al direttore Aguanno appunto per riuscire a mettere in piedi tutto questo è un primo passo credo è un primo passo che dovremmo continuare a portare avanti perché da qui a qualche giorno avremo un coordinamento dove i direttori discuteranno appunto di come portare avanti tutti questi temi di cui abbiamo discusso in questi tre incontri se nei primi due incontri abbiamo fornito un po' un'analisi di contesto quindi abbiamo parlato di Agenda ONU 2030 abbiamo parlato di Next Generation U abbiamo parlato di piano nazionale di ripresa e di resilienza oggi con il professor Carrosio credo che siamo entrati proprio nel vivo nel vivo della materia di noi Gali insomma e credo che siano stati buttati sul piatto dei temi molto importanti io credo che sicuramente in base a quello che è stato detto oggi già come Gali stiamo parlando già da diversi mesi insomma un obiettivo nel quale concorrere assieme ad ASVIS è quello del miglioramento dell'integrazione tra le politiche territoriali quindi tra SNAI tra politica leader tra strategia urbana di sviluppo sostenibile nell'ottica di questo rapporto tra urbano e territori rurali che è venuto fuori anche oggi insomma e credo che con la collaborazione di ASVIS sia di fondamentale importanza anche avviare dei percorsi formativi e di informativi che sono rivolte ai Gali ma soprattutto che sono rivolti al partenariato e tra quelli che costituiscono il nostro partenariato particolare attenzione la darei agli enti pubblici che piccoli comuni che soffrono molto spesso la carenza di personale ma soffrono molto spesso la carenza anche di formazione quindi dei percorsi che mirino al rafforzamento amministrativo nell'ottica appunto della sostenibilità concetti come approvvigionamenti verdi io che sono un amministratore di un piccolo comune di montagna sono attualmente totalmente sconosciuti insomma quindi qualcosa bisogna sicuramente fare quindi lavoro ce n'è tanto come ha detto il professor Carrosio io non mi dilungo credo che siano stati che siano stati trattati molti temi e credo che da qui avremo veramente tante cose che possiamo fare e quindi ringrazio tutti per la vostra attenzione per la vostra collaborazione e ci sentiamo presto insomma grazie grazie ad Alberto Petterle e direi che con queste parole credo che possiamo anche concludere questo incontro di oggi che appunto è la conclusione di un ciclo di tre appuntamenti con la consapevolezza e con l'impegno che adesso richiamava il presidente dei Galli di darci un appuntamento un impegno affinché questi i contributi che sono emessi diventino patti di collaborazione tra ASVES ASVES e Gall per costruire percorsi concreti di attuazione della sostenibilità dei territori e di contributo a un miglioramento della come dire delle politiche delle politiche regionali e locali con la consapevolezza delle difficoltà che anche oggi sono emerse in modo evidente ed è la possibilità che possiamo fare dei piccoli percorsi degli interventi dei miglioramenti però anche con la consapevolezza che senza queste azioni concrete sicuramente avremo meno possibilità di cambiare e di dare una prospettiva di sostenibilità ai nostri territori quindi grazie ancora a tutti grazie ovviamente in particolare quest'oggi a Giovanni Carrozi che è stato con noi per il contributo che ci ha fornito e a risentirci speriamo a breve un saluto a tutti e buonasera grazie